A un anno dalla sentenza di primo grado torna in aula il crack della Popolare di Vicenza. Venerdì a Venezia si apre il processo di appello che parte dalle quattro condanne inflitti agli ex vertici dell'Istituto di Credito, con la più pesante sei anni e sei mesi, a carico dell'ex presidente Gianni Zonin. Il processo di secondo grado sarà celebrato con la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che, a seconda delle richieste, potrà introdurre nuove prove o riassumere quelle già acquisite nel primo dibattimento. Attesa per il nutrito esercito di parti civili di cui fanno parte decine e decine di risparmiatori pratesi rimasti praticamente a mani vuote dopo il crollo della banca nel 2018. A loro i giudici del Tribunale di Vicenza hanno riconosciuto una provvisionale pari al 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni e delle azioni acquistate con un tetto massimo di 20.000 euro. Accanto a questo provvedimento, la confisca dei beni degli imputati condannati per un ammontare di 963 milioni e la provvisionale di 600.000 euro in favore di Banca Italia. Con Zonin, in primo grado, sono stati condannati tre imputati che all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di vice direttore generale, tutti accusati di agiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto. Assolti dagli stessi capi di imputazione, un ex consigliere e un ex dirigente, mentre il destino giudiziario dell'ex direttore generale, Samuele Sorato, sta seguendo un percorso a parte. Sulla vicenda incombe un altro tema, oltre al giudizio di appello. Davanti alla Corte Costituzionale è infatti pendente la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze relativamente all'esclusione del cessionario di un istituto di credito dalla responsabilità civile, nel caso specifico l'esclusione di banca intesa da eventuali obblighi a risarcire il danno.